Il pronto intervento di una pattuglia dei carabinieri che stavano eseguendo un servizio coordinato di controllo nel territorio predisposto al comando provinciale di Nuoro ha consentito di rintracciare prontamente un insegnante in pensione di Ottana, Gesuino Solo di 66 anni, che poco prima aveva minacciato con una pistola a tamburo legalmente detenuta ma che non poteva essere portata fuori dall'abitazione, il proprietario di un terreno confinante con cui c'erano da tempo dei contrasti per alcune servitù prediali. Ma i militari della compagna di Ottana, che hanno rintracciato l'uomo nel garage della sua abitazione, l'hanno sorpreso mentre cercava di occultare in un carrello due armi in risultata clandestina. I particolari dell'operazione sono stati resi noti stamattina nel corso di una conferenza stampa dal maggiore Luigi Mereu, vicecomandante del reparto operativo del comando provinciale di Nuoro, e dal capitano Massimo Meloni, comandante della compagna di Ottana. I militari sono stati allertati da un uomo che si è recato in caserma per denunciare di essere stato minacciato attorno alle 16 di ieri con una pistola dal proprietario di un terreno confinante situato in località Sabaviva, in Agro di Ottana. I carabinieri hanno subito avviato le ricerche del pensionato, che è stato rintracciato attorno alle 16.45 da una pattuglia in borghese nel suo garage. I militari l'hanno trovato mentre tentava di nascondere un fucile calibro 16 a canne mozze con la matricola brasa e col calcio segato per favorirne l'occultamento. Una carabina calibro 22 con la matricola brasa, con cannocchiale e col calcio modificato. Inoltre sono state trovate 5 cartucce calibro 16 e 18 cartucce calibro 38. I carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione del pensionato, rinverendo la pistola calibro 38, legalmente detenuta, ma che non poteva essere utilizzata all'esterno all'abitazione. A quel punto i carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'uomo che è stato rinchiuso nel carcere di Badecarros. Dovrà rispondere dei reati di minaccia a mano armata, porta abusivo di armi, possesso di armi clandestine modificate, detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione.